PANEMEN CIRCENSES Ti ricorda il PANEMEN CIRCENSES? Sì, credi ben che me la ricordi. Che pensi se la provaste senza corda? Da quando ho salito PANEMEN CIRCENSES nel 2018, l'idea di salirla solo con le scarpette e il magnesio è una cosa che ci penso molto spesso. Però mi rendo conto che scalare o voler scalare un muro così liscio e tecnico senza corda è un qualcosa che probabilmente è ai miei limiti. Io le falla di testa mia, come al solito. Grazie. Grazie.